Polemica per le sagre, polemica, insomma ci sono stati anche degli attacchi piuttosto importanti, oltretutto proprio durante la prima riunione, insomma, di questo, diciamo, di questo nuovo organismo. Lei come la pensa? Come la pensa l'associazione, ovviamente? Ma dunque, noi naturalmente di questi atteggiamenti che possono sembrare un po' intimidatori, credo che debbano fare a meno anche coloro che rappresentano quelle stanze, perché questo non aiuta la discussione, non aiuta a trovare un punto di equilibrio, non aiuta a trovare quello che molti ritengono oramai giusto, perciò coloro che si comportano così come si sono comportati, quindi di fatto, diciamo così, insultando anche l'assessore a cui va il nostro sostegno, la nostra solidarietà, non aiutano nemmeno coloro che fanno le sagre, che poi hanno una ragione storica. Noi abbiamo visto tra la documentazione, faccio solo un esempio di quello che è stato prodotto in commissione, che c'è chi organizza una sagra e in questo caso è presente la pizza, ma installa 13 forni, quindi è una pizza industriale. Siamo a questi livelli in tali casi, e quindi coloro che protestano farebbero bene a vedere anche in casa loro cosa succede in giro, al che potrebbe anche essere che iniziative come quelle che ho descritto in maniera sommaria possono non essere ritenute utili per tutti.